come ti senti ma non so sono un po' frastornato sinceramente è così siamo tornati come ai bei tempi siamo di nuovo in due in tre in quattro smeralda ha fatto il caffè ma che succede che succede succede che il portantino mi ha mollata la solita mentalità ristretta e così io adesso rimango qui finché voi non mi pagate tutto quello che mi dovete e cioè 2 milioni 822 mila lire corrispondenti a 28 mensilità tredicesime ferie non godute e adesso c'è anche il premio maternità come lo chiami se mi pagate tutti gli arretrati lo posso anche chiamare arturo arturo o eventualmente deline